amici di fano tv buonasera e ben trovati il nuovo appuntamento con impronte femminili la rassegna di arte e cultura per le pari opportunità e i diritti umani volge quasi al termine la penultima puntata abbiamo la curatrice di questa rassegna Sara Cucchiarini ben trovata buonasera buonasera a tutti ben trovato Maria Evna allora abbiamo già ripreso gli appuntamenti in presenza anche a luglio c'è un ricco calendario che tra poco andremo subito a scoprire esatto quattro degli appuntamenti di impronte femminili gli ultimi quattro dopo un inverno lungo e dire difficile con tutti gli appuntamenti che siamo state costrette a proporre streaming torniamo finalmente in presenza e proponiamo una serie di appuntamenti tutti molto interessanti e diversi tra loro alcuni dei quali sono appuntamenti elaborazioni anche di incontri di approfondimento culturale elaborati già per la rassegna dello scorso anno che come sappiamo è stata diciamo così toccata dalle questioni diciamo della pandemia e siamo stati costretti a ripensare completamente tutto quindi ecco in presenza ci saranno cose che vedranno la luce e verranno proposte che sono elaborazioni già dello scorso anno bene si parte allora il 4 luglio con il primo appuntamento FISA e Armonicus una delle nostre ospiti Alessandra Palazzo buonasera benvenuta buonasera buonasera a tutti allora segretaria AFI ci dirai tra poco che cos'è cosa fa AFI insomma il perché della presenza in collaborazione con teatro in faccia ma di questo parleremo più tardi allora partiamo da AFI innanzitutto sì io sono appunto segretaria dell'AFI che è l'associazione fisarmonicistica italiana un'associazione che è nata lo scorso gennaio 2020 fondata dal maestro fisarmonicista Francesco Palazzo che è appunto un concertista fisarmonicista di fama internazionale nonché docente presso il conservatorio Piccini di Bari ha fondato questa associazione con un progetto ben chiaro preciso dedicato ai bambini l'intenzione è quella di promuovere la cultura della fisarmonica di potenziarne la cultura e l'insegnamento a partire dalla prima infanzia e lo stiamo già realizzando concretamente perché stiamo prevedendo di far partire dei corsi di fisarmonica per i bambini dall'età dei tre anni appunto con degli strumenti progettati e costruiti appositamente per loro quindi c'è una fabbrica molto prestigiosa di Castelfidardo che si sta occupando di questo lavoro e ci confederanno presto questi primi strumenti che hanno caratteristiche professionali in questo c'è proprio la differenza rispetto diciamo agli strumenti che sono comunemente in circolazione per i bambini quindi dovendo e volendo appunto promuovere la cultura della vita armonica mettiamo in atto tante attività dedicate ai bambini ho pensato che la favola fosse una risorsa utilissima e preziosissima per loro tra l'altro io mi occupo di promozione della lettura anche da anni perché sono anche ambasciatrice per la lettura per il centro per il libro della lettura italiano ma lavoro con i bambini facendo con loro laboratori letture animate promozione appunto della lettura con bambini ad ultima in particolare con i bambini e allora ho pensato appunto che la favola fosse uno strumento veramente efficace quindi nasce questa fiaba musicale teatrale scritta a quattro mani con francesca tombari perché ho pensato che sarebbe stato davvero appassionante per i bambini raccontare loro come nasce questo strumento quindi abbiamo inventato fantasiosamente questa questa nascita la favola è molto particolare perché si muove si su un piano molto creativo molto fantasioso ma anche molto attuale perché trattiamo argomenti che riguardano la vita quotidiana dei bambini quindi loro si sentono chiamati stimolati in questa fase creativa fantasiosa educativa però anche molto chiamati in causa perché si raccontano delle vicende che a loro accadono quotidianamente quindi si ritrovano e si medesimano immediatamente nella storia stimolati poi da tanti suggerimenti che offriamo perché appunto la favola offre molti contenuti quindi è stato emozionante penso anche realizzare questo progetto si è stato emozionante intanto incontrami con francesca tombari perché mi piace raccontare se posso che sia con francesca che con lucilla la nostra conoscenza nasce grazie ai libri quindi grazie a occasioni di presentazione di libri questo è un tema ricorrente nelle nostre vite a evidenziare quanto importante sia il libro e quante opportunità offra da tanti punti di vista anche per la nascita di nuove conoscenze e amicizie preziose e quindi mi sono rivolta a francesca e con lei abbiamo in pochi giorni davvero con un'intesa divertente straordinaria e stimolante messo giù questo lavoro ci siamo messe a lavorare per questa favola condividendo la passione per la scrittura anche per la fisarmonica e anche per altri diciamo contenuti che poi la fiaba svela quindi allora chiederemo proprio a lei insomma di entrare nel particolare nel particolare stesso tragitto se vogliamo stessa dinamica con lucilla monaco perché è accaduto in un secondo momento perché sono due progetti paralleli ma autonomi che si è pensato di teatralizzare questa favola anche perché come associazione noi abbiamo un altro progetto che si chiama fisarmonicarte che ha proprio l'intenzione di unire varie dimensioni artistiche lo abbiamo già fatto in passato con altre iniziative adesso lo facciamo con il teatro quindi la fisarmonica che coniuga la dimensione artistica del teatro e allora mi sono rivolta a lucilla le ho raccontato di quest'idea e anche lì diciamo così è nata in modo molto naturale e molto profondo l'intesa su come avviare insomma poi i lavori Sara ha davvero accolto generosamente la nostra proposta e motivando la nostra presenza appunto con la l'intenzione di destinare i nostri progetti ai bambini infatti siamo nella sezione kids e ci ha destinati in un luogo molto particolare che è la pinacoteca di san domenico mi piace evidenziarlo perché noi con il nostro progetto spesso diciamo ci ispiriamo al pensiero di grande personalità e molto spesso proponiamo il pensiero di Simone Weil che dice che la bellezza dell'arte è la sua sacralità e ci ritroviamo a fare questo debutto in una chiesa ex consacrata appunto in un luogo che mantiene questa suggestione spirituale molto importante questa è una coincidenza insomma che ci ha favorito anche in qualche maniera a dare una particolare profondità ecco al lavoro una particolare sostanza al lavoro sì penso che insomma mi fa molto piacere insomma che abbiano accolto bene il luogo dove abbiamo pensato questo spettacolo e corre l'obbligo mi corre l'obbligo di sottolineare che diciamo la fondazione Carifano quest'anno per la prima volta è una partner della rassegna impronte femminili ecco questo spazio è dedicato ce lo ce lo concedono insomma per questo spettacolo e quindi colgo l'occasione di ricordarlo di ricordare che sono dei partner che hanno sostenuto questa edizione della rassegna. Con Francesca Tombari e Lucilla Monaco si continua a parlare di questa fiaba teatrale e partiamo subito dalla copertina come ogni favola che si rispetti perché hai qualcosa per me e per il nostro pubblico a casa. Ciao e buonasera a tutti sì in effetti ho in anteprima e prima la copertina del libro non abbiamo ancora il libro ma probabilmente domani arriverà. Con questo inizieremo lo spettacolo domenica e tutto si basa su Fisa e Harmonicus che sono? Esatto che sono perché abbiamo detto che è stato fatto questo lavoro a quattro mani quindi vogliamo sapere tutto di questa fiaba come nasce da chi è partita l'idea e soprattutto da che cosa? Certo allora con Alessandra come aveva accennato prima ci siamo conosciute per caso diciamo o meglio per l'organizzazione della presentazione di un libro da lì abbiamo iniziato a frequentarci a condividere idee e progetti Alessandra è un vulcano e a me piace assicondare i vulcani e da qui è nata l'idea di scrivere una favola inizialmente un'idea così piccola semplice scriviamo una favola dopodiché man mano si sono unite idee e la voglia di trasmettere ancora di più grazie alla favola e i protagonisti sono Fisa e Harmonicus due esserini che vivono in un mondo sopra la terra ma fa parte della terra che grazie ad un profumo di fragole si uniscono e scendono a terra e da lì c'è un bambino una famiglia che vive un'esperienza dominicale come qualsiasi famiglia può vivere la domenica ed una tartaruga che vive in un giardino dove questa famiglia si riunisce appunto per vivere un pomeriggio in comunità ma accade una cosa che non vi svelo assolutamente assolutamente non toglierci il gusto di venire a scoprire ecco questo spettacolo che andrà in scena il 4 luglio spettacolo che andrà in scena grazie alla regia di lucilla monaco allora tu sei la regista ma parliamo anche di teatro in faccia perché abbiamo detto che questo evento in collaborazione con teatro in faccia quindi il teatro proprio come strumento come mezzo non solo di aggregazione ma proprio di analisi no esatto buonasera a tutti io sono lucilla monaco regista di questa opera teatrale di questa fiaba narrata faccio parte insieme al mio gruppo storico di teatro in faccia e cito anche le mie collaboratrici che non sono qui elisa pavoni e aurora alesi con le quali abbiamo intrapreso grandi viaggi artistici e ci siamo affascinate anche alla realizzazione di questa fiaba musicale la la fiaba musicale che mi ha proposto inizialmente alessandra ha suscitato subito molto interesse in me perché comunque il teatro è un fil rouge che collega piccini e grandi e come metterla in scena soprattutto come mettere in scena una fiaba è un lavoro complesso leggendola non si comprende subito teatralmente chi possa essere il personaggio principale o il personaggio che che completa la narrazione ma bisogna impegnarsi a estrapolare man mano le anime le anime nascoste sicuramente i due protagonisti fis e armonicus sono l'oggetto e il soggetto misterioso che attirerà l'attenzione 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 dei bambini la realizzazione volutamente è stata realizzata su più piani un piano onirico e un piano circense quindi lo spettatore assisterà ad una rappresentazione a metà strada tra i racconti felliniani è proprio la lettura di un libro prima di andare a dormire ecco questa sensazione di morbidezza di pacatezza però con degli sprizzi e degli sprazi colorati circensi folli anche dove il bambino comunque ne rimane coinvolto soprattutto anche perché è condito tutto dalle musiche e dal vivo quindi ci sono più piani quello narrato quello interpretato quello danzato e ricordo che comunque ho voluto che vicino a me oltre agli attori agli interpreti ci fossero anche delle professionalità danzanti quindi abbiamo un corpo di ballo professionista che curerà particolarmente particolarmente certe scene ecco ripeto uno spettacolo nello spettacolo dove la pacatezza verrà rotta da dei colori vivaci dalle sorprese circense è uno spettacolo completo proprio a 360 gradi dove non manca nulla e dove insomma protagonisti sono varie discipline diciamo tutte insieme esatto esatto siamo riusciti a unire più discipline e devo fare un plauso grandissimo al nostro piccolo interprete perché avremo un bimbo un bimbo in scena e la sua prima esperienza e la cosa meravigliosa è che dopo ore e ore di prova perché sono mesi che noi proviamo nei caldi pomeriggi pre estivi e non solo quindi l'impegno serio alla fine delle prove mi diceva sempre ma è già finito ma che bello questo è proprio come dire l'energia contagiosa l'entusiasmo dei bambini ma io credo sia proprio l'entusiasmo che viene dal teatro o comunque dalle dalle forme d'arte perché creano quasi una dipendenza noi queste sono dipendenze sane che vanno alimentate coltivate quanti anni ha piuttosto il bambino il bambino nove anni è piccolo ma è abbastanza grande per poter apprezzare la bellezza del teatro la magia ma anche il sacrificio l'impegno perché noi non facciamo sconti per nessuno nel senso che ok hai scelto di lavorare qui con noi però adesso devi dare il massimo e lui si è talmente immerso in questa atmosfera di lavoro serio che ha una gran voglia di coinvolgere anche i suoi amici i suoi coetanei infatti ci sarà una sorpresa simpatica anche alla fine da parte di del nostro piccolo protagonista avete tutte quante solleticato la nostra curiosità che verrà saziata naturalmente il 4 luglio a che ora lo diciamo? alle ore 19 nella chiesa San Domenico Pinacoteca di Fano quindi invito tutti tutti coloro che sono interessati comunque all'arte alla musica a prenotarsi perché è bello poter ritornare veramente a teatro comunque 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 è un plauso anche alla vita trionfa la bellezza assolutamente sì assolutamente sì Francesca allora ringrazio anche io Lucilla perché veramente ha dato vita a quello che si è scritto quindi non è facile mettere in pratica una favola e immagino gli sforzi che sono stati necessari devo dire che il libro è stato pubblicato editato abbiamo una casa di editrice sillabe che appunto ha creduto in questo progetto e quindi ci sarà un libro che noi metteremo in vendita e il ricavato andrà totalmente all'associazione Vidas ci tengo a sottolinearlo perché è un'associazione che fa veramente tantissimo e quindi il 4 di luglio ci sarà a disposizione anche il libro prima di parlare con la prossima ospite un'ultima cosa perché abbiamo parlato del testo di questa fiaba teatrale della rappresentazione teatrale abbiamo parlato del balletto parliamo anche della musica però certo perché un amore che ci accomuna con Alessandra è quello della fisarmonica e quando abbiamo iniziato appunto a pensare a questo progetto il pensiero che la fisarmonica sarebbe stata la protagonista è stato per me un momento veramente di esaltazione quindi devo ringraziare Paolo Picchio per aver creato tutti i momenti musicali che sono inediti e creati appositamente per lo spettacolo e Francesco Palazzo che li eseguirà e quindi sarà presente il giorno della rappresentazione dalla Pinacoteca ci spostiamo alla Rocca Malatestiana a questo punto giusto Sara? Giusto l'11 di luglio alle ore 19 ci sarà un appuntamento al quale teniamo molto è diventato un appuntamento fisso della rassegna e cioè la mostra dedicata all'artista che dà l'immagine il volto, la caratterizzazione simbolica attraverso la sua illustrazione del manifesto di quest'anno che è quella che vedete alle mie spalle, IF, una bambina nata dalla fantasia e dalla matita di Mara Cerri quindi ci sarà in quell'occasione una mostra personale dedicata a lei a cura di Paola Gennari e in quell'occasione ci sarà un momento di vernissage, la mostra partirà l'11 e sarà visibile alla Rocca Malatestiana fino al 22 di luglio e nella strada dell'11 avremo ospite con noi oltre l'artista e la curatrice sarà con noi anche Nadia Terranova, un'importante autrice con la quale Mara Cerri ha dato vita a un bellissimo libro con le sue anche illustrazioni dove comunque lei ha curato la parte illustrativa che verrà presentato anche in quell'occasione il libro si chiama Il Segreto ed è come poi vedrete, non voglio svelare troppo ma per chi poi verrà alla mostra vedrà che c'è un dialogo fra la ricerca per il libro di Nadia Terranova e questa bambina che ha dato il volto al manifesto di Impronte Femminili 2021 che ascolta una terra che diventa verticale, non più orizzontale poi per i contenuti e il senso lascio la parola a Paola Gennari la curatrice della mostra, benvenuta Paola grazie, ciao, buonasera a tutti allora c'è tanto da dire, molto poco da svelare perché naturalmente invitiamo a venire a vedere questa mostra che è frutto di importanti collaborazioni comunque tante persone, tanti editori hanno lavorato e cooperato alla realizzazione del tutto sì esatto, Mara Cerri innanzitutto vive e lavora a Pesaro ed è un'illustratrice conosciuta a livello nazionale e quest'anno presenteremo una selezione molto accurata di illustrazioni che sono altro che il lavoro di tre libri, quindi tre edizioni uno è L'Isola di Calif, di Davide Orecchio, edizioni Orecchio Cerbo L'Invenzione dell'amore, di Daniel Philip, Else, edizioni e Il Segreto, di Nadia Terranova, edizioni Mondatori Ragazzi non saranno presenti solo queste illustrazioni che riguardano appunto questi tre libri ma vi saranno anche alcuni fotogrammi di un videoclip per la canzone del cantautore Giacomo Toni, Se Proprio Devo quindi parliamo di un artista poliedere che è piuttosto particolare grande lavoratrice, che non è solo illustratrice, è animatrice e anche pittrice è un'artista straordinaria dal mio punto di vista perché è la prima volta che ho incontrata e ho incontrato appunto le sue opere ho visto questa rara capacità di rappresentare il mistero che è una cosa che non è facile da rappresentare soprattutto quando abbiamo a che fare con la realtà con delle immagini che comunque sono figurative infatti c'è Franz Rowe, che lo cito perché è stato colui che ha coniato questo termine particolare del realismo magico lei effettivamente ha questo termine diciamo proprio in lei perché le sue illustrazioni sono veramente una visione attonita del reale nel senso perché attonica, attonita, perché in realtà la bambina per esempio che fa parte dell'illustrazione del manifesto ha questo sguardo, questa bocca succhiusa ascolta la terra perché è una bambina perché probabilmente nella nostra storia di esseri umani qual è il momento che ci ricordiamo più spensierato, forse anche più felice, è quella della nostra infanzia quindi la bambina in realtà rappresenta anche la purezza rappresenta anche l'unione di due entità come diceva Jung forse anche facilmente e difficilmente unibili che sono il sole e la luna, l'uomo e la donna e questa bambina ascolta la terra, ascolta questo germoglio che sta nascendo e questo germoglio in realtà ha il titolo della mostra ha un titolo piuttosto criptico che però l'ha voluto fortemente l'artista ha come titolo If Piccolo Drago e il Piccolo Drago è questo germoglio che in qualche modo glielo ricorda a livello così, a livello formale ma il drago in realtà che cos'è? a livello simbolico è il coraggio è la determinazione è la forza quindi visto che il tema della rassegna di quest'anno di Sara Cucchiarini è proprio l'ecosostenibilità parliamo quindi di tutto quello che riguarda la natura il rispetto della natura questa bambina ascolta questo germoglio che in qualche modo probabilmente fa qualche suono emette qualche rumore ma è lei che lo ascolta è la bambina che lo può ascoltare è la nostra parte interiore è il nostro essere bambino che lo può ascoltare altrimenti noi ormai siamo diventati grandi ci siamo persi non sappiamo più ascoltare non sappiamo più vedere e quindi ecco perché è verticale la terra in realtà è verticale perché noi dobbiamo fare qualcosa di straordinario dobbiamo vedere in maniera diversa dobbiamo cominciare a vivere anche in maniera diversa, differente in maniera straordinaria quindi questa mostra è dedicata un po' a tutti quanti non c'è una fetta di pubblico particolare? ma l'arte è sempre stata di dominio pubblico non c'è un'età non bisogna neanche capirla l'arte spesso sento persone ma io non ci capisco niente di arte ben venga vuol dire che hai una purezza appunto interiore non bisogna studiarla l'arte non sono una di quelle che dice che l'arte va studiata l'arte va capita col cuore ti deve emozionare va vissuta quindi l'appuntamento è alla Rocca Malatestiana l'11 luglio alle ore 19 l'appuntamento dell'11 è un appuntamento come dicevo per noi importante perché cerchiamo di dare grande dignità e spazio all'illustratrice all'immagine come tutti gli anni sono quattro anni che cerchiamo comunque di sottolineare quanto sia importante le immagini che dalle pareti della città sono tanti mesi che i cittadini di Fano e non solo vedono questa bambina in ascolto di una terra verticale devo dire che questo germoglio che ci ha accompagnato per tanti mesi era un po' l'obiettivo racconta un po' quello che è l'obiettivo di questa rassegna cioè mettere dei piccoli germogli di consapevolezza alle persone che ci seguono alle persone che intercettano alcuni appuntamenti abbiamo utilizzato tanti linguaggi diversi tanti approfondimenti diversi e l'obiettivo comune è quello proprio di arrivare a far germogliare una consapevolezza nuova questa terra verticale questo cambio di prospettiva per noi significa un cambio di prospettiva nella propria consapevolezza che dia uno strumento di maggior coscienza per cui io ci tengo molto ringrazio veramente molto Mara Cerri per aver dato la forma in modo perfetto a quello che era l'obiettivo che noi le abbiamo chiesto quando le abbiamo chiesto di dare il volto alla locandina di quest'anno al manifesto di quest'anno e credo che Mara sia veramente una grande artista ultima nota tecnica che aggiungo l'appuntamento dell'undici come altri della nostra rassegna sono accompagnati dalla lingua dei segni ci sarà un interprete per cui per le persone che avranno necessità ci sarà un interprete della lingua dei segni Mara Cerri l'abbiamo intervistata per voi In collegamento abbiamo Mara Cerri illustratrice e autrice di cinema e di animazione un curriculum vitae insomma ricco ricco di esperienze importanti e arriviamo comunque alla questione che ci riguarda quella inerente ad impronte femminili perché proprio lei ha realizzato la locandina il manifesto insomma la protagonista che vediamo alle mie spalle e opera sua quindi mi piacerebbe conoscere un po' la genesi insomma della nascita di questo personaggio e mi piacerebbe chiederle che cosa dobbiamo aspettarci da questa mostra Ciao a tutti sono stata chiamata da Sara e Pucchiarini Emanuele Orciari a rappresentare il tema di quest'anno di impronte femminili che era dedicato alla terra dunque avevo libertà nell'interpretare questo tema il mio disegno è una ragazzina in ascolto della terra una terra però disegnata quasi in orizzontale sembra quasi la corteccia di un albero o un ventre che la ragazzina sta ascoltando e dentro questa terra c'è un piccolo germoglio quindi sta ascoltando qualcosa che è in potenza in potenza di essere ci siamo accorti che ci siamo accorti che c'era qualcosa che veniva già espresso nel titolo impronte femminili abbreviato anche in IF è comunque una possibilità un'ipotesi e indagando questa ipotesi e pensando anche alle immagini i lavori che avrei voluto esporre nella mostra che gentilmente mi dedicano alla Rocca ma alla Testiana di Fano mi sono resa conto che in fin dei conti questi lavori che io decido di esporre che sono la mia produzione dell'ultimo anno di lavoro diciamo 2020-2021 sono effettivamente quello che in potenza è il mio lavoro cioè quello che vorrei rappresentasse e fiorisse in qualche modo dei racconti contenuti in questi libri sono delle possibilità delle possibilità di essere diversi e di porre l'attenzione su delle questioni che mi stanno a cuore saranno esposti alla Rocca le illustrazioni di alcuni libri a cui ho lavorato con degli editori a cui tengo tantissimo sono Orecchio Cerbo Wells Edizioni da Roma che quest'anno hanno pubblicato due libri uno è L'Isola di Calif scritto da Davide Orecchio ed è il racconto di un ragazzino afroamericano incriminato ingiustamente per il furto di uno zainetto chimene non commesso per il quale questo ragazzino ha scontato diversi anni in un carcere di massima sicurezza a Rikers Rikers Island una volta liberato non ha retto diciamo a questo sopruso e si è tolto la vita l'altro è un poema di un autore portoghese di origine capoverdiana in realtà vissuto durante la dittatura di Salazar il poema si intitola L'invenzione dell'amore ed è un lavoro a cui ho lavorato in un team a partire da un'idea di Alice Rohrbacher che a un certo punto ha deciso di condividere con noi con l'editore e con me un poema che ricordava di avere letto quando viveva in Portogallo questo poema è stato subito incredibile per noi perché parlava di un'epidemia ma stranamente di un'epidemia uguale e di forze contraria a quella che stavamo vivendo nel momento in cui abbiamo iniziato a lavorarci perché si tratta di un'epidemia d'amore non si tratta di un amore fiabesco si tratta di di un amore che si prende sulle spalle delle responsabilità e decide di di agire nel mondo e per questo viene perseguitato infine c'è un un libro che ho scritto scritto e disegnato da Nadia terraronova disegnato da me ma scritto insieme dico perché ci siamo passate praticamente la narrazione quindi le illustrazioni non rappresentano quello che viene detto nel testo ma ne sono la voce l'eco o la continuità si intitola il segreto pubblicato da Mondadori ragazzi anche questo questo libro che in effetti sarà presentato alla Rocca al giorno di inaugurazione della mostra è molto attinente con il tema di impronte femminili perché comunque è una ragazzina si parla di una ragazzina che sussurra un segreto il suo segreto alla terra e questo segreto genera un mondo sotterraneo che si popola di strani personaggi e che entra in continua relazione con il mondo sopra c'è un di sopra e un di sotto un visibile e un invisibile che entrano in relazione e soprattutto un maschile femminile che entrano in relazione infatti curiosamente questo libro si sposava in particolar modo con il tema della rassegna e poi ci sarà esposto un videoclip musicale di un cantautore romagnolo che stimo tanto soprattutto per il modo in cui scrive si chiama Giacomo Toni e le parole di questo videoclip se proprio devo in qualche modo sono una specie una sorta di decalogo o di manifesto di quel che si vorrebbe raccontare attraverso il proprio lavoro ed è un senso di continuità penso rispetto a quello che ho detto e ai libri che quest'anno saranno pubblicati anche in questa puntata un parterre di donne con la D maiuscola io personalmente le ringrazio tutte quante con te Sara ci diamo appuntamento alla prossima puntata che poi sarà anche quella conclusiva esatto sarà un piacere tornare bene nel frattempo gli appuntamenti li conoscete già io ringrazio Sara Cucchiarini l'assessore alle pari opportunità e ai diritti umani grazie a te grazie a tutte le nostre ospiti a Riccardo Sora in regia e a tutti voi per l'attenzione buon proseguimento